L'ultimo report per il coronavirus in Sicilia, quello del 9 febbraio, parla di 7.159 nuovi positivi rispetto alle precedenti 24 ore. Attualmente sono 1.484 ricoverati per Covid e nelle terapie intensive 115 posti occupati, 57 decessi, mentre per quanto riguarda la provincia di Siracusa ancora alto il numero dei nuovi contagi giornalieri, 890. Peraltro la Regione ha emesso anche, nella settimana tra il 31 gennaio e il 6 febbraio, il bollettino settimanale. Resta sostanzialmente stabile l'incidenza dei nuovi casi. Il tasso dei nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa e Siracusa. La fascia di età maggiormente a rischio risulta quella della scuola, dai 6 ai 10 anni o ancora dai 0,18 e tra i 25 e i 44. Comunque, trend in riduzione per le nuove ospedalizzazioni e i tre quarti dei pazienti in ospedali nella settimana di riferimento risultano non vaccinati o con ciclo vaccinale non completate. L'epidemia, pur mostrando i segnali di arresto, rimane in una fase delicata, però dicono, con un significativo impatto sui servizi territoriali e assistenziali, ma con un netto trend in calo di nuove ospedalizzazioni e proporzioni di casi ospedalizzati. E intanto, se si è in possesso di una certificazione di esenzione della vaccinazione priva di QR code, si ha tempo fino al 27 febbraio per trasformarla in digitale. Si può richiedere al medico o al medico vaccinatore l'attestato per scaricarla e portarla sempre con sé in formato digitale. Ancora arresti e denunce per quanto riguarda il possesso di droghe e lo spaccio nella provincia di Siracusa. I carabinieri della stazione di Canicattini-Bagni, dopo un prolungato monitoraggio dell'abitazione di un 26enne, dove era stato notato un viavai di giovani, hanno effettuato una perquisizione rimbellendo 30 grammi di hashish già pronto per essere spacciato, nonché materiale per il confezionamento. L'attenzione non si è limitata alla proprietà dell'abitazione del ragazzo, ma si è stesa anche alla convivente di 24 anni, la quale aveva tentato di occultare alcune stecche di hashish all'interno della propria borsetta. Per l'uomo è scattato l'arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari, mentre la donna è stata denunciata. I carabinieri hanno arrestato anche un pusher a Siracusa, un pregiudicato siracusano di 52 anni, che tra il 2016 e il 2019 si è reso responsabili di molteplici episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arrestato ha una condanna di 7 anni di reclusione da scontare in carcere. Intervento da parte di Giovanni Pistorio, segretario generale Fillea CGL Sicilia, e di Salvo Carnevale, segretario generale provinciale della Fillea CGL di Siracusa, dopo il grave incidente della scorsa settimana, ha corso all'altezza di Francofonte, su quella che è ribattezzata la strada degli orrori e che da tempo attende il mitologico raddoppio della ragusana. Un'opera pubblica attesa dall'arco costituzionale di almeno 30 anni. Nel mese di novembre, dicono dal sindacato, il commissario straordinario Musumeci ha incontrato le organizzazioni insieme ai dirigenti ANAS e aveva annunciato di vedere finalmente il traguardo e confidava che entro il mese di dicembre potessero essere completati gli ultimi adempimenti, compreso il pezzo di finanziamento mancante per chiudere al miliardo di euro valore complessivo dell'opera che deve arrivare dal Ministero delle Infrastrutture, pare a circa un quarto dell'ammontare. Questo pezzo di finanziamento, insieme ad alcuni aspetti burocratici non di sua grande importanza, erano e sono la condizio sine qua non per poter lanciare la gara e affidare, dicono dal sindacato, finalmente lavori entro quest'estate. In quella riunione, professando cautela anche per le cocenti delusioni degli anni passati, abbiamo chiesto trasparenza e comunicazione continua. Crediamo sia arrivato il momento, dicono Pistorio e Carnevale, di fissare un nuovo incontro con le organizzazioni sindacali, ma sarebbe auspicabile che Musumeci venga anche all'intimia a spiegare al territorio cosa sta accadendo. Sulla presidenza dell'autorità del sistema portuale della Sicilia orientale, da cui dipendono i porti di Augusta e di Catania, viene fuori la dichiarazione del vicepresidente della Commissione Trasporti, Paolo Ficara, il deputato di Movimento 5 Stelle, si dice basito di fronte a polemiche sollevate d'arte per rallentare la scelta del presidente di questa autorità del sistema portuale. Premesso che non sono affezionato, dice nessun nome in particolare, e in questi mesi abbiamo dialogato con le altre forze politiche e con lo stesso ministro. Discussioni sempre su una rosa tutta di alto profilo e con competenze ed esperienze nel settore della portualità. Sono sicuro che alla fine il ministro saprà scegliere per il bene dei porti di Augusta e di Catania, ma trovo stantio questo ricorso ostinato al veto strumentale che rischia di ritardare e di allontanare il porto di Augusta dalla possibilità di agganciare quelle grandi opportunità che il mondo della portualità ha davanti a sé nei prossimi anni, anche grazie al PNRR. Canicattini-Bagni giovedì 10 febbraio alle ore 20 spegne le luci del municipio di Palazzo Messina-Carpinteri, aderendo alla protesta dell'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, contro l'aumento dei costi energetici che porterà al collasso i comuni impossibilitati a garantire servizi essenziali ai cittadini. Come denunciato nei giorni scorsi dal vicepresidente Anci di Sicilia, Paola Menta, presidente del Consiglio Comunale di Canicattini-Bagni, il gravoso è incontrollato aumento dei costi energetici che si sta registrando nel Paese e rischia nel 2022 di portare al collasso oltre le imprese e le famiglie e anche i comuni, impossibilità di ottenere in equilibrio e già precari bilanci a garantire servizi essenziali ai cittadini. Grazie a tutti!